Salve a tutti i player che mi seguono. Sono forse finalmente riuscito a trovare il modo per spiegare al mondo come si impara a cancellare le animazioni di Riven. Un po' con la teoria e un po' con la pratica. Comincerei, per chi non sapesse cosa voglia dire, cancellare le animazioni è una cosa molto meno mistica di quanto il nome non dica. Cancellare le animazioni vuol dire non sviluppare l'intera animazione di un'abilità o di un autoattacco per poterne sfruttare una nuova. Ad esempio il kiting degli adi carry. Quando un adi carry attacca e cancella l'ultima parte del suo attacco per camminare, quella è una cancellazione dell'animazione. Diciamo che Riven è famosa per questo tipo di meccanica dato che lei gode di moltissime animazioni cancellabili e di moltissime animazioni cancellanti. Come potete vedere in questa clip in cui cancello Shaco dalla faccia della terra ho scaricato una combo di ben 7 tasti nell'arco di 2 secondi. Voi vedete la clip di 8 ma ovviamente è rallentata di 4 volte. Per poter fare tutto questo bisogna avere una conoscenza incredibilmente profonda delle animazioni di Riven. Questa è una Q pulita. Sto cliccando solamente Q. Questa è una Q con le animazioni cancellate. Prima regola. Le Q di Riven si cancellano con il movimento. Questo vuol dire che se voi cliccherete nell'esatto momento in cui Riven fa la sua giravolta, un posto qualsiasi, cancellerete l'animazione della Q. Questo è importante ad esempio per la combo engage classica che si fa dopo il livello 6 che vi permette di avvicinarvi al vostro avversario senza che lui si renda conto che voi effettivamente avete attivato la ultimate. Inoltre è importante imparare il ritmo del proprio campione. E con ritmo intendo proprio questo. Sarà una mia fissa ma io trovo che questi giochi auditivi aiutino moltissimo a controllare le animazioni di un personaggio come Riven. Questo ragionamento si può fare anche per gli autoattacchi per imparare la differenza tra quelli non cancellati e quelli invece cancellati. Ma tralasciando un attimo gli autoattacchi posso dire con certezza che la maggior parte delle combo di Riven cancellando le animazioni si imparano tranquillamente con l'esperienza. E intendo proprio giocandola tanto senza intestardirsi in custom contro i minion della giungla per imparare a fare qualcosa. L'unica combo davvero complessa che va imparata assolutamente in custom è la Fast Q Combo. Con questo nome intendo la combinazione di Q e autoattacchi dove voi cancellate l'animazione della Q muovendovi e l'animazione dell'autoattacco con la Q successiva. Innanzitutto, così si cancellano gli autoattacchi. e così si cancellano le Q. Notate come con il click verde cancello la Q e con il click rosso di cui arrivene ad attaccare il bersaglio. Se e solo se riuscirete a fare entrambe queste cancellazioni otterrete la cosiddetta Fast Q Combo. Se ci fate caso, tra l'altro io non uso il click rosso per farla perché ho imparato a farla diversamente e quasi faccio fatica a farla come fa effettivamente Box Box. In ogni caso, per chi volesse impararla io consiglio spassionatamente di imparare a farla utilizzando il click rosso perché come ho imparato a farla io è molto più scomodo. Sia chiaro, l'efficacia è la stessa quindi a me non me ne frega niente di imparare a farla come la fa Box Box. Però, se voi dovete impararla da zero vi consiglio il metodo con il click rosso. Un ultimo consiglio prima di salutarvi. Non impazzite se non riuscite a fare la Fast Q Combo. Non è fondamentale per saper giocare Riven come si deve. Io personalmente sono arrivato in platino senza essere in grado di farla. Anzi, se può farvi ridere quando sono droppato da Diamond a Platino avevo effettivamente imparato a farle e la utilizzavo quindi forse dovrei smettere. In ogni caso, imparate bene il ritmo della maggior parte delle vostre animazioni e giocate a cancellarle. Questo vi darà un enorme vantaggio. Quando avrete l'esperienza di 600-700 game in ranked, ovviamente con Riven pensate, voglio fare ancora qualcosa con questo personaggio voglio fare ancora un salto di qualità e allora sbattetevi per imparare quest'ultima combo. Io ve l'ho spiegata più per la nozione per sapere che esiste. Quindi scusatemi la voce per questo video ma sono raffreddato e come sempre buon game a tutti!